Patrick Albertengo, co-founder di Reopla, a Sinergie 2018, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi. Ciao Patrick, un commento a Maggi, vedi questo evento. Ciao Gerardo, bello. Bello credo che racchiuda l'evento perché ha messo insieme operatori di varia natura, ha messo insieme tanti interventi da tantissime società differenti, si è parlato di innovazione, si è parlato di collaborazione, sinergie, tutto quello che deve avere un evento. Bravo tu per la condizione, direi bene, soddisfatto. Bene, allora senti, tu hai parlato di Big Data oggi, come sintetizzeresti in pillole per l'agente immobiliare questo splendido speech che però è durato 12 minuti? Il Big Data sono una realtà ormai in quasi tutti i settori, l'immobiliare non ne è esente e è arrivato il momento di comprendere che cosa sono, come si raccolgono e quali sono le potenzialità. Ho parlato un pochettino delle macchine che si guidano da sole, è un esempio credo calzante. L'immobiliare nel mondo sta cambiando grazie a questi servizi, grazie al Big Data, grazie all'analisi, grazie all'intelligenza artificiale. L'agente immobiliare deve essere informato perché anche il suo lavoro cambierà proprio in funzione dei dati. Grazie mille, Patrick Albertengo, Reopla da Milano.